Buonasera cari amiche e cari amici edizione straordinaria proprio straordinaria perché presento per la prima volta sul mio canale il libro che ho scritto insieme a Peppe Di Stefano c'è sono un presidente Silvio Berlusconi il ritratto di un sognatore fra qualche giorno ricorre il primo anniversario della scomparsa del presidente e allora come omaggio grazie a Cairo editore abbiamo abbiamo scritto questo libro ricco di aneddoti di storie di curiosità vi leggo vi leggo i capitoli così vi così secondo me vi potrebbero maggiormente ancora di più incuriosire allora il capitoli lo compriamo così potete indovinare di che cosa si parla caro Marcello qui Montevideo Milano mi senti dobbiamo diventare alla squadra più forte del mondo mi sembra matto per questo lo compriamo lo prendiamo non ho mai speso meglio i miei soldi tiratemi 100 lire in testa Sessi Bon forza Inter questione di cuore sei per sempre amo i gioielli i meravigliosi il gol di Montari tagliati i capelli la Marisa dove sono i pavoni e ridevano tutti mascevicenco lo devo vendere stia in linea per favore le bretelle e la tarta ten 16 biglietti addio presidente e poi un ricordando Silvio ogni tanti tanti personaggi che abbiamo intervistato abbiamo intervistato più di 120 persone che conoscono che hanno lavorato con lui che magari lo conoscevano da lontano quindi una serie di aneddoti di storie da quando ha iniziato a seguire il calcio da bambino a seguire il Milan da quando poi ha iniziato con le televisioni la liaison col calcio e il mondialito e poi ancora quando è diventato prima presidente del Milan e poi presidente del Monza con un finale inedito secondo me molto commovente ma prima ancora molto sorprendente ecco questo è il libro da si può già preordinare su Amazon e lo troverete in tutte le librerie dal 4 giugno e ci sarà la presentazione ai primi giorni di giugno lo metterò sempre dietro così lo voglio voglio sempre che lo ricordiate care amiche e cari amici che invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione edizione straordinaria anche perché secondo i colleghi di sky oggi colloquio in casa a casa milan tra i dirigenti del milan non c'è ibraimovic che è partito per l'australia per la tournée non non sono partiti oltre i che gli giocatori infortunati anche il leao per questioni personali e anche pulisic il resto della formazione quindi anche i giocatori che devono poi partecipare all'europeo come per esempio giro come per esempio teo hernandez sono partiti per la tournée perché la stessa cosa per quello che riguarda la roma c'è un accordo di mettere in campo la formazione migliore e milan praticamente senza salvo leao ci sono e pulisic sono tutta tutta la rosa dei giocatori a disposizione stessa cosa dicevo per la roma la partita si giocherà venerdì alle ore 12 o 13 italiane poi sarò più preciso e le sette aperta l'ultimo impegno del milan prima del chiudete prima della chiusura della stagione stagione che poi riprenderà i primi di luglio che passa solo un mese e si ripartirà per una nuova avventura però edizione straordinaria anche per un altro motivo perché oggi emerson royal o meglio gli agenti di emerson royal il difensore di fascia destra del tottenham si sono presentati a casa milan hanno parlato con i dirigenti del milan e non è detto che venga però c'è stato un pur parel questo che cosa significa che il milan si sta ponendo il problema per quello che riguarda la fascia destra calabria sembra che sia confermato ora c'è la discussione aperta per quello che riguarda l'ingaggio il nuovo ingaggio il nuovo contratto il prolungamento del contratto il rinnovo del contratto florenzi florenzi attende ancora un anno certamente essendo ormai agli sgoccioli della carriera non è escluso che ci fosse magari un'offerta importante in arabia potrebbe pensarci ecco perché il milan a fronte di ogni evenienza si sta guardando intorno anche per forse un ruolo meno importante certamente del potenziamento dell'attacco vi ho detto oggi la situazione come si sta evolvendo per zirze vediamo se il milan riuscirà a prenderlo o meno ma c'è certamente è uno dei giocatori sotto sotto osservazione dal milan ormai da tanto tempo invece per quello che riguarda invece per quello che riguarda girassi come vi ho già detto oggi sembra un pochino più vicino si stia avvicinando al borussia dormund gli altri nomi non lo so perché sesco mi sembra una cifra molto molto alta non so se milan investirà 65 70 milioni anche perché c'è la concorrenza pesante del celsi poi bisognerà capire anche la situazione di david per esempio e poi vediamo anche degli altri l'anno scorso il milan aveva cercato di prendere al naziri giocatore del seviglia però insomma non salvo qualcuno di questi non stiamo parlando dell'attaccante forte il bomber vero il giocatore che faccia fare la qualità sì per zirze sì per sesco gli altri sono giocatori forse per completare un attacco non per rendere molto più forte un attacco quindi abbiamo parlato dell'attaccante abbiamo parlato del centrocampista centrale con una certa caratteristica il difensore centrale potrebbe essere un'altra un'altra scelta delicata da da fare l'alternativa a teo ernande sulla fascia di sinistra a maggior ragione se non andrà via se andrà via florenzi che si è ben comportato e la fascia destra però l'ho proprio detto in ordine secondo me di importanza vediamo per quello che riguarda il portiere oggi c'erano buone notizie sulla gazzetta dello sport per l'eventuale rinnovo di megnano e poi dai prossimi giorni incomincieremo a vedere tutti a leggere tutte le eventuali incontri incontri tra il milan tra i dirigenti del milan e gli eventuali agenti che proporranno giocatori e poi vedremo il milan quali giocatori incomincerà a prendere quale sarà il diciamo l'agenda del milan quando quando saranno le scadenze quando decidono di prendere un giocatore se eventualmente subito per per la ripresa della stagione prime di luglio oppure ci sono delle trattative che andranno più in là adesso in questo momento si ipotizza si 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 riesce eventualmente a capire quali siano gli incontri a scovare a scoprire quali siano gli incontri con i dirigenti dei gli agenti dei vari giocatori per quello che riguarda poi un altro punto importante bisognerà capire a fine giugno ci sono le scadenze di tutto il gruppo tutto lo staff medico lo staff o quindi appunto dei fisioterapisti anche lì vedremo di capire quali saranno le mosse del milan quali siano le intenzioni del milan poi altro problema capire e questo sarà i primi di luglio la possibilità di avere l'under 23 l'under 23 ci saranno dei giocatori che magari il milan prende giovani per l'under 23 che possono essere inseriti nell'under 23 questo è l'obiettivo ma essere subito spostati un po quello che ha fatto la juventus nel caso ci servano per la prima squadra quindi qualche giovane importante che non sia magari ancora maturo per per la prima squadra ma che possa maturare possa sviluppare esperienza in un campionato duro come quello di serie c sempre che il milan possa avere la possibilità di schierare una squadra perché una squadra non si è iscritta in serie c c'è anche l'altro problema della primavera ho letto che potrebbe interessare ma non ho chiesto verifiche l'ho letto su da qualche parte che potrebbe essere una figura interessante guidi allenatore della primavera della roma vedremo se eventualmente può essere questa una soluzione altro direi che per oggi non c'è altro mi interessa capire bonera per esempio bonera dovrebbe essere lui nel caso di 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 formazione della di questa squadra under 23 nel caso di creazione nel caso il milan possa accedere al campionato di serie c poi vi dico che c'è l'estrazione ogni anno cambia cioè se il milan viene estratto nel girone c la prossima stagione non sarà nel girone c ma nell'a o nel b c'è un'estrazione in questo caso sono tre squadre fino adesso l'atalanta che si è ben comportata la juventus che si è ben comportata sono andate avanti nel quarto di finale addirittura hanno giocato i playoff e poi c'è il milan che sarà estratto nel girone c nel girone a o nel girone b giocherà a solbiate quindi anche per tante squadre eventualmente del girone c non lo so penso al catania penso ad altre squadre potrebbero venire qua a solbiate lo stadio che ben conosce conosciamo perché è stato lo stadio dove sono stati ospitati tante le prime amichevoli le prime amichevoli della stagione ricordo una tradizione era sempre il gol di simone il primo gol della quando il milan come primo gol della stagione aveva marco simone alla fine si vinceva quasi sempre il campionato chiaramente parliamo degli anni di capello dove in cinque anni abbiamo vinto quattro campionati quindi non c'è nessuna sarà stato un caso ma tutte le volte segnava simone quindi un motivo in più per ricordare con simpatia lo stadio di lo stadio di solbiate arno che sarà a cinque minuti di macchina da milanello quindi importante anche per gli allenatori l'allenatore il gli accompagnatori e i dirigenti seguire questa grande novità affascinante del milan che gioca nel in serie c è meraviglioso under 23 ovviamente se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivete iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti attivate la campanella e io lo ricorderò sempre c'è solo un presidente silvio berlusconi ritratto di un sognatore vi ho letto i capitoli dal giorno 4 nelle edicole scusate nelle dico e nelle librerie soprattutto ma attenzione perché si può già preordinare su amazon